buongiorno a tutti oggi è venerdì 6 maggio e si parte subito con il nostro meraviglioso roast beef perché i certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano ma oggi è venerdì e non potevamo cucinare solo il roast beef quindi anche la nostra di stagliacrumi è già in forno ma tra poco ci sarà ancora un'altra sorpresa siamo pronti in banco le nostre alette marinate ci sono la chialina appena arrivata la costoletta bella come sempre i bocconcini di vitellino primo step per il secondo step fegato e trip freschissimi come sempre i nostri impanati la cotoletta di vitellino straccetti di vitello prosciutto di maiale guardate qua meraviglioso e il nostro spiettino di carne bianca bello come sempre qua ci sono le arance anche oggi alista agli agrumi allora la lista è pronta ci dedichiamo al fondo allora siamo pronti per i saluti ma da ieri sera siamo folgorati da un meraviglioso concerto di massimo ranieri che resta il nostro maradona vivente non morì non c'è la decima fa si è la pena o campan C'è un rispita, si è mai lupo tu, per chi sta a mora, da lì in ciò che si è mai lupo tu, per chi sta a mora,